Ciao ragazzi e benvenuti al parquetto del tagliagole, oggi ragazzi come avete letto dal titolone siamo stati fermati dalla forestale quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a vedere cosa è successo, via! Eccoci qui ragazzi pronti a farci questa bella chiacchierata insieme, che poi bella, avrei preferito parlarvi di coltelli però è successa questa cosa che voglio condividere con voi, magari a qualcuno serve per chiarirsi un attimino le idee su cosa si può fare, cosa non si può fare o cosa si pensa si possa fare perché sul penso si possa fare così gira un po' il mondo ragazzi ma ovviamente non funziona in questo modo questo weekend con due amici, in realtà con uno perché uno ci aspettava già in cima al monte abbiamo deciso di andare a fare un campo qui sui nostri monti, un monte dove siamo stati più volte sono più o meno due ore e mezza, tre di salita per arrivare su dove facciamo campo facciamo campo in questa zona veramente isolata dove non passa nessuno alla mattina pigliamo e riscendiamo, quindi dormiamo su andati mille volte, mai incontrato la forestale, mai in assoluto questa volta 500 metri dall'inizio del sentiero c'era la macchina della forestale con due agenti che vi ricordo ragazzi che la forestale sono i carabinieri ah vediamo lì ragazzi, io ero tranquillissimo, nessuno di dove ha coltelli in cintura zaino, nessuno in mimetica, nessuno con l'elmetto da guerra tranquillissimi proprio, magliettina, pantaloncino corto, addirittura calzettone alto da camminatore ragazzi, da camminatore professionista scarponcino e zaino, ovviamente avevamo gli zaini grossi ed è il primo punto, perché ragazzi il fatto di avere lo zaino grosso è stato quello che ci ha fatto fermare dalla forestale per quale motivo? Perché ci avviciniamo, salutiamo, buongiorno, buongiorno e loro si mettono in mezzo alla strada, ci fermano e sono subito un po' aggressivi e ci dicono, ragazzi dove andate, cosa fate? non è che andate a fare qualcosa di male sottolineate questa frase, non è che andate a fare qualcosa di male ma io mi sono sentito un po' così perché alla fine ragazzi zero coltelli, zero tutto, tranquillissimo, col mio zainetto come alle medie, mi fermano e mi dicono non è che andate a fare qualcosa di male ovviamente al momento, preso un po' così, ho risposto dicendo ma male che cosa? Che cosa di male? e lui mi ha risposto, attenzione, sottolineate, qualcosa di male non è che vi fermate a dormire sul monte ok? Qualcosa di male vi fermate a dormire sul monte ragazzi, questa cosa di campeggiare liberamente nei boschi non si può fare non la potete fare poi potete dire io faccio quello che voglio benissimo, ma non la potete fare non si può campeggiare nei boschi ragazzi non si può ci hanno fermati perché hanno visto gli zaini grossi detto proprio da loro quindi ragazzi ci hanno detto con questi zaini dov'è che andate ovviamente presi un po' così io ho risposto in questo modo fortunatamente l'amico che era con me è uscito in modo un pochino più elegante un pochino che poi era la verità guardate che su in cima al monte c'è un nostro amico che ci aspetta andiamo su, sono già le 3 del pomeriggio se quando arriviamo su vediamo che diventa buio ci fermiamogli a dormire e la mattina dopo scendiamo quindi creiamo la situazione in cui c'è un'esigenza ho l'esigenza di fermarmi su a dormire semplicemente perché non posso scendere perché diventa buio e io non voglio rischiare di farmi 3 ore di cammino a scendere erano le 3 del pomeriggio, 2 e mezza, 3 c'erano 3 ore di cammino sarebbero state ovviamente ragazzi queste 3 ore di cammino in discesa arrivi su, pause e tutto arriviamo giù per le 8 era già buio, era una cosa credibile che tra l'altro era la verità è vero ragazzi, è verissimo che poi abbiamo fatto così però detto agli agenti della forestale da lì hanno iniziato ad ammorbidirsi un attimo però pensate un attimo se qualcuno di noi avesse avuto il coltello in cintura ci hanno fermato per gli zaini ok? con un coltello in cintura come sarebbe finita? perché ragazzi se ci fosse stato qualcuno col coltello attaccato alla cinta secondo me sarebbe finita veramente male perché loro si erano già posti in modo aggressivo rispetto a noi sono col mio zainetto nel bosco vai a fare qualcosa di male capito? perciò ricordatevi sempre i coltelli i coltelli non li giustificate col fatto di essere nel bosco non giustificate un coltello da 20 cm di lama attaccato alla cintura perché siete nel bosco non è una giustificazione ci ho già fatto un video ricordatevela questa cosa comunque ragazzi dicendo che avevamo il nostro amico in cima e facevamo in questo modo se ci fossimo trovati su a tardi veniva sera ci fermavamo a dormire si sono ammorbiditi abbiamo parlato anche della zona quindi del più e del meno della zona di come salire del sentiero e tutto quindi si è risolta tranquillamente così buongiorno buongiorno e siamo andati dopo un'oretta ce li troviamo dietro dopo un'oretta di cammino ce li siamo trovati dietro con la jeep secondo me per vedere se li avessimo presi per il culo e ci fossimo accampati da qualche parte appena ci hanno visti che stavamo camminando per salire hanno girato la jeep e sono tornati indietro ripeto è una supposizione mia però li abbiamo trovati dietro con la macchina dopo un ora ci hanno visti hanno girato indietro può darsi che sia quello ragazzi due cose devono passarvi da questo fermo della forestale che è andato bene perché poi ragazzi con l'educazione ripeto sei rimasti lì anche a parlare dopo la forestale fa il suo lavoro potete essere d'accordo non potete essere d'accordo potete gridare ACAB dove volete però ragazzi la forestale fa il suo lavoro quindi io lì forestale non l'ho mai vista magari è successo qualcosa il giorno prima o nei giorni precedenti erano lì hanno fatto un controllo ci hanno chiesto da dove venivamo ma dopo aver detto che saremmo saliti e in caso di necessità ci saremmo fermati a dormire non ci hanno chiesto nemmeno i documenti quindi è finita in modo pacifico con educazione non ponetevi male non ponetevi male prima cosa seconda cosa ragazzi non si può dormire nei boschi non potete campeggiare hanno ragione loro hanno ragione loro anche questa cosa vi piace o non vi piace ACAB 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 ragazzi non vi piace sono fatti i vostri la legge non lo consente se non per necessità per manifesta necessità sono in cima ve l'ho detto mille volte sono in cima viene buio non me la sento di scendere mi fermo ma se siete nei boschi a 500 metri dalla strada dove avete la macchina non potete dire che vi fermate a dormire ragazzi perché non sta né in cielo né in terra non potete campeggiare nei boschi terza cosa che deve passarvi coltelli mai 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 alla cintura dentro lo zaino mai alla cintura quando camminate ricordatevi queste tre cose che sono fondamentali ragazzi da questo fermo della forestale per me il primo in assoluto dal parquetto del tagliagole è tutto buona giornata e ciao ciao